Allora terminiamo con due preghiere musicate da me per l'occasione di un incontro con i bambini dal 2005 in poi con un coro che ha avuto ad Assisi e quindi l'Ave Maria sempre ho cercato di lasciare il testo originale della nostra semplice Ave Maria E ha aggiunto un'armonia, una melodia, un'orchestrazione e stasera lo vogliamo fare insieme con la voce femminile di Margherita e quella mia Vediamo un po' che esce fuori, questo è un brano con la base che viene più ricca di arrangiamenti Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta tra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Tu sei benedetta tra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria, piena di Dio, prega per noi peccatori Ave Maria, piena di Dio, prega per noi peccatori Ave Maria, si è benedetto il frutto del tuo seno Gesù Un'ora della nostra morte Ave Maria, piena di Dio, prega per noi peccatori piena di grazia scelta dal Signore, sei per noi. Sei benedetta, io e nostra madre, benedetta fra le donne, benedetta fra le donne e se. Santa Maria, a casa alleanza, sposa e regina, bella e perfetta sei, ora per sempre dentro il cuore sarà. Santa Maria, prega tu per noi. Grazie. Grazie.